In una apparizione il Veggente, il quale è privilegiato, vede Gesù o Maria Santissima, gli angeli o i santi e conversa con loro. Nella Santa Eucaristia, accessibile a tutti i cristiani che ne sono predisposti, appaiono un'ostia bianca ed un calice contenente vino. In essi il fedele è convinto di trovare il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo stesso, del quale si ciberà. Grazie alla sua assimilazione, egli viene in un certo senso divinizzato. La Santa Eucaristia è quindi prioritaria rispetto a qualsiasi apparizione. In essa c'è un rapporto molto più intimo con Gesù, perché ci si ciba di colui per mezzo del quale tutte le cose che esistono nei Cieli e sulla Terra furono fatte ed in Lui sussistono.